Tennis e Friends 2014, eccoci qui con il grande Amadeus E' un video selfie questo praticamente Siamo andati oltre, neanche il selfie della foto, video selfie, va bene E tutto questo a Tennis e Friends E Tennis e Friends che è la cosa più importante, è un connubio bellissimo che riguarda la salute, la prevenzione e lo sport, il tennis, il gioco, insomma il divertimento Perciò si fa utile al direttevole, oggi con chi fa l'incontro? Non lo so, secondo me non gliel'hanno detto a lui A sorpresa perché non vogliono farlo felice subito, io sono scarsissimo quindi non lo so, vediamo Perfetto, vinca il migliore, vinca soprattutto la prevenzione in questo caso Quella è fondamentale, la prevenzione a qualsiasi età, poi insomma io ho superato i 50 anni o i 52 e diventa veramente importante Perché piccole cose si prendono in tempo e poi magari dopo possono essere, come dire, purtroppo può essere tardi Quindi la prevenzione a qualsiasi età, in qualsiasi cosa è fondamentale Perfetto, io ti ringrazio del tuo contributo e salutiamo tutti quanti Ciao ragazzi, ciao Un abbraccio Ciao